Il cantiere resta sotto sequestro, questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione. La vicenda è quella relativa alla Valle delle Piagge, nella collina di Capolona tra Castelluccio e Lo Spicchio. Lo scorso ottobre l'aria di circa 5 ettari era finita sotto sequestro a conclusione di un'indagine dei carabinieri forestali, partita a seguito delle segnalazioni da parte dei cittadini. Per la Procura di Arezzo la vera finalità dei lavori compiuti nell'aria non sarebbe stata infatti quella di realizzare un laghetto per l'irrigazione di un noccioleto, così come da richieste presentate in fase di autorizzazioni, bensì per estrarre inerti per costruzione, da cui sono stati ipotizzati reati ambientali. In seguito all'intervento della Procura erano stati presentati ricorsi con tanto di ordinanza del Tribunale di Arezzo che richiedeva la revoca del sequestro. La Suprema Corte di Cassazione adesso rende noto il Comitato La Valle delle Piagge, in data 21 maggio, si è espressa a conferma del sequestro. Siamo felici che ancora una volta e speriamo sia l'ultima questo meraviglioso territorio sia stato tutelato, affermano dal Comitato La Valle delle Piagge. Mentre aspettiamo il corso della giustizia, vogliamo dire grazie a chi, concludono con il suo impegno e grande lavoro, ha messo al sicuro un luogo che altrimenti sarebbe stato irrimediabilmente distrutto.